Chi si aggiudica il derby si rilancia e può sperare in un ottimo piazzamento in classifica. Ma la posta in palio del derby, come quello di sabato di calcio a 5, significa molto di più. Persino l'ora dell'appuntamento con i tifosi è di quelli da intrepida attesa, le 21, come per le sfide più rispettabili. All'andata Gymnastic Studio Virtus Fondi finì 3-3. La conclusione non fu però degna di quanto visto sul parquet, con una rissa che nulla aggiunse al risultato finale. Alla non aggiornata la classifica era anche molto diversa da quella attuale. Ora infatti la Gymnastic viene da un momento più negativo, mentre la Virtus esce gasatissima dalla vittoria esterna contro lo Sporting Latina. I giallo-blu sono quarti in classifica a 36 punti, i rosso-blu quinti ad un solo punto dalla Gymnastic. Ma non è questo il problema, ci spiega il presidente della Gymnastic Emiliano Biasillo, perché il derby è sempre una partita a sé che tutti avvertono con straordinaria tensione. Alla domanda sull'umore della squadra, all'indomani dell'esonero di Miccinilli risponde che i giocatori stanno bene, hanno disputato ottimi allenamenti e forse l'esonero può essere una scossa da alcuni risultati negativi. La decisione di affidare ad una gestione interna la leadership di squadra responsabilizza i più esperti, come Di Mauro e Teseo, quest'ultimo infortunato. Non potevamo permetterci, chiarisce Biasillo, un allenatore che a cinque giornate dalla fine aveva già mollato mentalmente la presa. Il derby sarà dunque un banco di prova fondamentale anche per la Virtus Fondi, quinta ma con la chiara speranza di poter raggiungere anche il terzo posto, dovendo poi giocare lo scontro diretto con il Cisterna, terza della classe. Sono sei gli infortunati in casa Virtus, tutti a disposizione invece per la Gymnastic, ma saranno confermati coloro che hanno disputato l'ottima prova contro lo Sporting. Da tenere assolutamente d'occhio l'altra entusiasmante sfida al vertice tra Real Cinzia e Città di Cisterna, che significa la prima contro la seconda della classe. Qualcuna dovrà pur fare un passo falso e qualcun'altra potrà pure approfittarne.